Ho davvero una fame da lupo oggi! Questo posto sembra un sacco carino! Oh, guarda che bello dog! Io invece voglio una di queste bibite blu! Solo un attimo! Li ho fatti speciali per voi! Servitevi! Però aspettate! Non assaggiate ancora! Così vi piaceranno ancora di più! Oh, grazie! Grazie! Non c'è di più! Sei, mi sento un po' strana! Avete messo l'aria condizionata al massimo? Oh mio Dio! Guarda come siamo cambiati! Così stiamo molto meglio, secondo me! Sì! Ecco perché si tratta di un bar magico! L'ennesimo giorno di scuola! E oggi mi interrogo anche di scienze! Te lo ripeto, tra noi è finita! Per sempre! Oddio! Ho sempre avuto una cotta per lui! Non mi importa! Ehi! Stai davvero venendo qui da me? Nervi santi! Ehi! Come butta! Ehi! Ciao Chloe! Che ne pensi del compito di matematica? Era difficile, vero? Oh sì! Davvero difficile! Sei intelligente e sarà andato bene! Grazie! Che cos'è questo odore? I tuoi capelli vanno a fuoco! Ah? Tu sai che c'ero! Ups! Mi dispiace! Ecco! Ehm... Ci becchiamo dopo, ok? Fatto! Jake! Ehi! Ma dove è andato? Che giornataccia! Festa del freddo! Oh! Possono entrare solo tipi freddi! E che problema c'è? Sono pronta! Uh! Molto meglio! Ehi ragazzi! Bella festa, vero? Ciao! Oh! Si soffoca qui! Andiamoci! Oh sì! Andiamo via! Oh! Caperò! Oh! Ciao! Ehi! Voglio venire anch'io in foto! Insomma! Non c'è posto per me! Ma che se ne importa? Scattiamoci un selfie! Ah! Ho un'idea! Questo scalderà un po' la situazione! Wow! Che bello! Cambiamo un po' le cose adesso! Questa festa ha bisogno di un po' di calore, vero? Ho visto che bollicino! Sta funzionando! Vediamo se adesso ti gusteranno i cocktail! Oh! Vuoi da bere? Magari sì! Oh! 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 Ma che è successo? I grippi! Non è un'idea non guardare lì! Oh! Oh! L'ho messa al massimo! Mi sa che a voi il caldo non piace! Oh! 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 Magari fossi una rock star! Oh! Ehi! Sono Chloe! Siete pronti a scafenarvi, eh? Pa! Pa 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 pa! Pa 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 pa! Pa 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 pa! Uh! se soltanto potessi duettare con lui un giorno solo nei miei sogni ti amo wow accidenti ci ho messo forse un po' troppo calore oh mio dio ma che cos'è questo odore? va tutto bene lì? sì come no ci ho visto solo un po' troppo fuoco diciamo wow a quanto pare sarà un altro giorno di sole che ne dici usciamo ad abbronzarci un po'? non lo so dai non voglio andare da sola e va bene sì andiamo a quanto pare si sta bene vero? sì che bel sole bellissimo vedi? gina? gina? tranquilla ti salvo io la mamma dice sempre di non sprecare l'acqua ti ho quasi bevuta scusami come posso tenerti a fresco? ma certo un frigorifero ovvio andiamo ehi ciao come va? ciao un attimo tu raffreddati qui dentro ok? ecco qui vedrai andrà tutto benissimo ma che sta facendo? ok stai tranquilla Chloe ok? uno due tre sì come va lì? molto meglio grazie torniamo a casa adesso? sì ma certo che sì amica mia scusami non posso crederci l'ho quasi sciolta che tipo è strano questo tipo ha un sacco paura ecco perché abbiamo gli snack giusto? non è rimasto niente muoio di fame oh aspetta ho una merenda oh ti sei sciolta in tasca non credo ci possa mangiare che tristezza non disperiamo voglio provare una cosa cosa? vedi sta funzionando torna comodo il tuo calore sei un microondi ambulante no? guarda come saltellano adesso non facciamoli finire per terra su ottime idee Agile felice di essere utile ho paura aiuto non riesco a trattenirla c'è niente che posso usare dolce al cioccolato no non mi servono questo pettine è tutto congelato non serve neanche questo non so proprio come potrò resistere trovati ma come farò a prendermi? che imbarazzo fatemi entrare e tu a che temperatura vorresti essere? non dimenticare di condividere il video con i tuoi amici per farvi tante risate e questi dei visti? iscriviti al nostro canale per non perderti il divertimento no 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 no